SEDE NOSTRI Dai, ripariamo insieme l'interrogazione di storia Oh no, che noia la storia Luca, ci stai ascoltando? Luca? Cosa? Cosa dicevate? Sede Nostri? No, ce la nuotiamo di gioco, non posso Ci sono morire Erano ci sono in illicomore Oh no, darn E' solo in inglese Si, confessa cosa È uscito E per farti Yasu Ma ragazzi, avete visto Luca? Luca, è sempre il ciutane. Infatti non risponde neanche per i nostri sms, non vuole solo con noi. È sempre solo e non vuole la nostra compagnia. Luca, mi raccomando, invita i tuoi amici per il sabato sera per festeggiare il tuo compleanno. Luca, ma mi stai ascoltando? Quando la smetterai con questo cellulare? Vedrai che resterai solo. Sì, ho capito. La mia festa, ci vediamo in pizzeria. La mia festa, ci vediamo in pizzeria, ci vediamo in pizzeria, ci vediamo in pizzeria. Perché non sono qui? Sì, sono sicura di avermi invitato. Ma prova a sentirli, manda loro un messaggio. La mia festa, ci vediamo in pizzeria. La mia festa, ci vediamo in pizzeria. Grazie a tutti.